Ciao amici, buon inizio settimana! State pensando anche voi a rimettervi in forma per l'estate? State seguendo i miei consigli? Guardate che funzionano! Anzi, vi annuncio subito che questa settimana uscirà un video in più, un bonus diciamo. Un bonus! Suona bene, già mi piace! E ti piacerà anche questo video, vedrai, è il training che vi ho fatto vedere domenica in questo video, con in più il cronometro e un po' di musica motivational per darvi i tempi e fare insieme questo training rassoda glutei da seduti. Non vedo l'ora, sì! Ottimo! E voi continuate a scrivermi le vostre esperienze nei commenti, sono uno spunto e un sostegno per tante persone che stanno iniziando davvero a volersi bene e stanno ottenendo dei risultati positivi. Oggi in particolare voglio salutare Emilia, ciao, che mi ha scritto per incontrarmi e nell'attesa si guarda tutti i miei video e ha iniziato a fare una cosa che ho detto, cioè quando mangia pensa più che al gusto all'effetto che il cibo ha sul suo corpo, sul suo metabolismo. Brava Emilia, questo è il modo giusto di pensare per restare sani e rimettersi bene in forma. Dimmi una scusa se ti interrompo, mi puoi aiutare? Certo, dimmi pure. Ecco io sono terrorizzata! Oh mamma mia, ma cosa è successo questa volta? Si avvicina la prova costume! Ma no, la prova costume non è un film dell'orrore. Per rimettersi in forma ci sono tanti consigli utili e li trovate in questa playlist che ho preparato per voi. Comunque amici e amiche che volete una soluzione specifica, questa settimana parlerò proprio della prova costume. Mercoledì nel vlog voglio sfatare alcuni falsi miti e svelarvi alcuni trucchetti per aumentare il fascino in spiaggia nel rispetto delle vostre forme naturali, naturalmente. E domenica voglio farvi vedere una nuova versione della mia insalatona risolutiva, quella che uso io per prepararmi alla famigerata prova costume. Grazie Simona, adesso sono più tranquilla. Ma sì dai, oggi mi sono messa il costume, vengo a fare un bagno, fa caldo, mi fa piacere. Anzi, mi sono messa un pezzo solo, proprio per te. Ecco, non bisogna farsi prendere dallo sconforto. Ho letto una notizia secondo cui esiste addirittura una sindrome da prova costume e ha anche un nome, si chiama Bikini Blues, come l'ha definita Marika Tigerman, la psicologa che ha condotto una ricerca specifica alla Flinders University in Australia. È un problema che affligge tra il 30 e il 40% delle donne. Addirittura una donna su quattro si sente in apprensione, ha un crollo di autostima e si vergogna del proprio corpo. Insomma, soffre di una vera e propria Bikini Blues. Eccomi qui. Ma no! Per favore, forza e coraggio! Questa settimana ci sono i miei video per aiutarvi a superare la prova costume e ho già dato tanti consigli per ritrovare la forma. Per vederli e seguirli tutti, basta iscriversi al mio canale con un click, così è facile. E attivate la campanella delle notifiche. Prima di salutarci, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace e tanti nuovi video. Bene, per oggi è tutto. Condividete sui vostri social se volete che i vostri amici e amiche quest'anno non soffrano di Bikini Blues. E noi ci vediamo presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao!